La destra fa un'operazione mezza verità perché 120 milioni è vero che sono arrivati sul territorio varesino. Peccato che più di 60 milioni sono sulla sanità, quindi non c'entra niente il comune di Varese e soprattutto l'80 per cento di quei fondi sono del governo, sono dell'accordo quadro sull'edilizia sanitaria. Però non facciamo polemiche sui finanziamenti, guardiamo avanti. La differenza è chi quei soldi li ha spesi, li ha spesi bene e chi per 20 anni non ha aperto cantieri, non ha portato opere importanti per il territorio. Quindi benvengano tutti i finanziamenti, ne vengano di più anche dalla regione. L'importante è spenderli bene, vincere i bandi e fare progetti per la città di Varese.